Brucia ancora e non poco la sconfitta di Taranto, a 48 ore dal duro sfogo del presidente Antonio Magri, sia chiaro, solo incentrato sul rendimento esterno della sua Virtus Francavilla, si cercano i correttivi tanto richiesti dal numero 1 Biancazzurro per chiudere la stagione in maniera importante. Proviamo a ipotizzare che sia nell'equilibrio dello scacchiere tattico Biancazzurro il problema, l'atteggiamento spregiudicato visto la nuova Red Arena ha funzionato, ha evidentemente portato risultati e non è un caso che tra le mura amiche il percorso sia stato da 10, ma il 3-4-2-1 visto a Francavilla con Cisco freccia aggiunta e pronto a volte a ridisegnare il modulo con un asimmetrico 3-3-3-1 non sembra funzionare in trasferta contro squadre che puntano a fare la partita. Non è un caso che l'unica vittoria lontano dalla Puglia sia arrivata da Vellino con il 3-5-2 classico, vista l'assenza di Maiorino e la collocazione a destra di un terzino a tutti gli effetti come Pierno. Questione di equilibrio e comunque supposizioni, a sorpreso poi allo Iacovone, l'assenza di un centrocampista di sostanza come Risolo, capace di dettare i tempi e allo stesso tempo garantire fisicità e schermo alla difesa. Il duo Macca di Marco, promettente, sembra aver bisogno comunque di un veterano accanto. E così torniamo da Vellino quando i due giocarono proprio accanto al Mesagnese, uomo di fiducia di Calabro. Due punte, Pierno a destra e centrocampo più bilanciato. Se tre indizi fanno una prova, ecco che la soluzione potrebbe essere già portata di mano. Chissà, intanto si prepara la sfida contro il Monopoli, reduce dal cambio di allenatore, quasi una consuetudine per la Virtus Francavilla, vicino alla doppia cifra in questo particolare rendimento.